pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventunesima domenica incontriamo il meraviglioso dialogo tra gesù e pietro potremmo dire che tutto ruota attorno a due domande che vogliamo lasciar risuonare nel nostro cuore chi è gesù per me e di conseguenza che cosa è la chiesa per me vediamo un po la scena è ambientata a cesarea di filippo che oggi non esiste più ora è banias ai piedi del monte ermon qui gesù interroga i suoi discepoli e parte da una specie di sondaggio diciamo così ma la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo e i discepoli rispondono alcuni giovanni battista altri elia altri geremia o uno dei profeti cioè i discepoli raccolgono quanto hanno sentito dire su gesù una cosa ci colpisce in questo elenco che gesù è racchiuso e ridotto a quello che le persone già sanno cioè gesù è semmai uno dei grandi personaggi ritornato sulla terra o è uno dei profeti anche noi oggi siamo tentati di dare questa risposta è qualcosa di già conosciuto di ovvio di religiosamente già catalogato già schedato sì gesù è stato un grande personaggio della storia per qualcun altro un rivoluzionario per qualcun altro un profeta per qualcun altro un grande personaggio religioso un fondatore di religioni insomma gesù è racchiuso nelle categorie del già conosciuto qualcuno arriva magari a dire sì gesù è il figlio di dio ma con un tale distacco che con la sua vita non ci azzecca assolutamente nulla ricordo ancora con un po di amarezza un ritiro che abbiamo tenuto per dei giovani ormai prossimi alla cresima gli abbiamo dato un foglio di lavoro e c'erano varie domande tra cui chi è gesù per te le risposte più allucinanti qualcuno scriveva per me è un buon maestro ma soltanto in alcune cose in altre no qualcun altro è un punto di riferimento qualcun altro ancora è stato un personaggio importante nella storia meno male che qualcuno ha scritto è il figlio di dio pochissimi hanno detto per me è tutto è il mio signore tornando al vangelo gesù non si accontenta di quel che pensa la gente ma interpella direttamente i discepoli ma voi chi dite che io sia gesù chiede di fare un salto nel proprio cuore e ci chiede e ti chiede ma io chi sono per te chi è per te gesù rispetto a quello che dice la gente rispetto a quello che hai imparato hai studiato chi è gesù per te cosa significa nella tua vita che posto ha nel tuo cuore in fondo questa domanda è la domanda degli innamorati chi sono io per te quanto sono importante per te è bello perché gesù vedete non cerca parole vuote lui cerca persone diceva padre ronchi lui non cerca definizioni ma coinvolgimenti che cosa ti è successo quando mi hai incontrato ecco gesù è maestro del cuore non dà lezioni non suggerisce risposte ma ti conduce con delicatezza a cercare dentro di te che bello se tutti potessimo rispondere incontrare te è stata la cosa più bella della mia vita chi sono io per te guardate che in fondo è la vita che risponde a questa domanda perché tanto quanto gesù è davvero importante tanto quanto lo ascolterò tanto quanto prenderò sul serio le sue parole tanto quanto la mia vita cambierà gli permetterò di trasformare il mio cuore la risposta di pietro è tu sei il cristo il figlio del dio vivente ecco abbiamo qui una risposta meravigliosa pietro non solo riconosce gesù come il cristo l'unto di dio il messia ma aggiunge tu sei il figlio del dio vivente c'è un oltre c'è un di più che umanamente era impossibile da accogliere nessuno mai avrebbe pensato che dio avesse un figlio cioè che in dio ci fossero più persone e che addirittura uno dei tre si potesse far uomo pietro coglie qualcosa di profondissimo ancora non ne ha intuito tutta la portata capirà e capiremo chi è il figlio di dio soltanto passando attraverso la croce non è uno che domina ma che si dona per noi ma vedete pietro coglie tutto ciò ispirato dallo spirito santo gesù dice beato te simone figlio di giona perché non la carne nel sangue te l'hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli così è anche nella nostra vita miei cari noi arriviamo a proclamare consapevolmente gesù come nostro personale salvatore e signore sotto l'azione dello spirito cioè per arrivare a una cosa del genere devo aver aperto il mio cuore alla grazia e aver fatto un atto di fede dietro non c'è solo saggezza umana studio riflessione ma c'è un'apertura di cuore c'è un lasciarmi toccare dallo spirito di dio allora vedete pietro professa la sua fede e che cosa succede pietro ci dice chi sia gesù e gesù ci dice chi è pietro è interessante i miei cari potremmo dire che gesù che rivela pietro a se stesso gli affida un nome nuovo simbolo della sua missione ma questo è profondamente importante anche per la nostra vita perché perché vedete noi tante volte ci scraniamo a capire chi siamo a conoscerci con tante introspezioni tanti esercizi per carità anche cose molto utili ma è gesù che rivela l'uomo a se stesso disse giovanni paolo secondo cioè più conosco gesù più ho una comunione di vita con lui più medito e cerco di vivere il vangelo e più è lui che rivela non solo lui a me stesso ma anche me a me stesso cioè è lui che mi fa capire chi sono e per cosa sono nato quindi gesù dopo la professione di fede di pietro fa qualcosa di splendido gli cambia il nome e gli affida una missione speciale da simone a che fa la roccia in aramaico la pietra che noi rendiamo con pietro cioè gesù fa di quel povero pescatore non istruito che qualche settimana fa abbiamo visto quasi affondare per la sua poca fede e della sua professione di fede la pietra il fondamento fermo della sua chiesa così che nessun potere del male potrà abbatterla solo gesù e pietro ricevono nel nuovo testamento questo appellativo di pietra roccia il senso è chiaro pietro la missione di rendere visibile la funzione di fondamento di unità di stabilità del cristo nei confronti della chiesa come disse il cardinale ravasi i credenti non saranno dispersi o isolati ma si ritroveranno insieme attorno alla pietra di pietro che nel nome di cristo raduna la chiesa di dio vedete e qui entriamo nella seconda grande domanda che cosa è la chiesa cosa è la chiesa per me la chiesa non è una istituzione umana fondata così da un gruppetto di persone che non sapevano che fare si sono messi a fare la chiesa la chiesa è di gesù e la famiglia di gesù e la comunità di gesù e il popolo di dio e le porte degli inferi cioè tutto il regno del male non prevarrà mai sulla chiesa si racconta che una volta napoleone parlando con un cardinale paventando tutti gli attacchi e ciò che avrebbe fatto i danni della chiesa si sentì rispondere dal cardinale guardi non siamo riusciti noi ad abbatterla dal di dentro con i nostri peccati non ci riuscirà nemmeno lei dal di fuori a tirarla giù la chiesa è di cristo può imbarcare acqua può purtroppo a volte dar scandalo con i suoi figli ma la chiesa è di gesù e le porte degli inferi non prevarranno allora abbiamo l'icona il simbolo della pietra e che cosa poi dice gesù a te darò le chiavi del regno dei cieli ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli ecco a pietro gesù affida le chiavi di casa le chiavi significano potere responsabilità autorità ecco il potere promesso a pietro che gli sarà conferito dopo la risurrezione è qualcosa di grandioso non gli vengono date le chiavi di un regno terreno ma del regno dei cieli che non è di questo mondo ma inizia in questo mondo per durare in eterno questo potere conferito a pietro ai suoi successori quindi il papa è un potere di servizio egli ha potere di legare di sciogliere termini giuridici a quel tempo che indicavano permettere o proibire dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato interpretare dunque autenticamente la parola del signore e aiutarci a capire nell'oggi che cosa sia buono e che cosa non lo sia cosa è giusto e cosa è sbagliato agli occhi di dio inoltre legare sciogliere significa anche ammettere o escludere dalla comunità pietro e la chiesa ricevono un potere enorme dire ciò che è valido e ciò che non è valido agli occhi di dio sciogliere dai peccati trasmetterci insomma nell'oggi la grazia vivificante santificante di dio noi a volte scambiamo la chiesa per così una semplice associazione una ong un gruppo come tanti altri no miei cari la chiesa volendo usare un'immagine come una prolunga può essere rattoppata scocciata brutta esteriormente quanto vogliamo ma interiormente dentro ci trasmette la corrente ci trasmette la grazia di dio ci trasmette la sua presenza in particolare operante nei santi sacramenti se io mi attacco a questa prolunga se sono ben connesso con essa posso entrare in comunione piena con il signore far esperienza del signore risorto nella mia vita che proprio per mezzo della sua chiesa continua a rendersi presente qui ed ora nell'oggi della nostra storia potremmo dire che per mezzo della chiesa noi otteniamo doni dell'altro mondo potremmo davvero chiederci allora in conclusione chi è gesù per me e che cosa è la chiesa per me la sento come qualcosa di lontano la vedo come qualcosa di brutto di inutile oppure la sento come famiglia come luogo di incontro con risorto di comunione con gli altri che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti